Sequestrati beni per 1.200.000 euro dalla Guardia di Finanza di Pesaro ad un imprenditore del territorio su mandato del Tribunale nell'ambito di un procedimento previsto dal Codice Antimafia. L'imprenditore pesarese è stato già denunciato in passato dalle fiamme gialle per gravi reati fiscali e tributari inerenti ad una precedente indagine dove il commerciante aveva occultato importanti proventi al fisco attraverso società con sedi a San Marino. La certosina opera dei finanzieri ha ricostruito con esattezza la reale situazione patrimoniale dell'uomo che di fatto come il lupo non aveva perso il vizio e così è risultato essere il possessore di una serie di beni immobili mascherati attraverso una società bolognese gestita formalmente solo dai figli. Da tutto ciò ne è risultato che l'imprenditore aveva un tenore di vita sproporzionato rispetto alle sue entrate dichiarate, lussuose ville, auto di grossa cilindrata, case, il tutto giustificabile come accertato dalle fiamme gialle solo attraverso entrate economiche illecite. Il sequestro dei beni quindi è stato disposto dal Tribunale applicando una norma prevista dal Codice Antimafia per i soggetti fiscalmente pericolosi per i proventi derivati da frodi fiscali. Grazie a tutti.